salve la finestra compositore visualizza l'output della timeline funziona anche come interfaccia per la maggior parte delle operazioni di compositing oppure può cambiare il modo di far apparire l'output unendo più input o variando le dimensioni del display o simulando zoom e movimenti di macchina ovviamente tutte le modifiche sono raccolte nell'edl e quindi non alterano le sorgenti per il compositing si può anche prendere in considerazione l'ottimo programma natron che open source e multi piattaforma e oltretutto è basato sui nodi però se nel era è molto potente per la maggior parte delle operazioni di compositing e noi impareremo a sfruttarlo al meglio il video mostrato nel compositor a molte funzioni di navigazione la grandezza del video può essere bloccata alla taglia della finestra o esserne indipendente in quest'ultimo caso chiamato modalità telecamera o camera in inglese possiamo zoomare a piacere o fare il panning cioè muovere liberamente il punto di vista con cui vediamo il video è importante notare fin da ora che questi movimenti sono solo cambiamenti del nostro punto di vista sulla finestra non modifiano affatto l'output video per bloccare la taglia del video alla taglia della finestra oltre a impedire ogni altra modifica bisogna attivare il tasto proteggere il video dai cambiamenti per sbloccarlo invece si può usare qualsiasi altro tasto per esempio quello subito sotto visualizza zoom questo fa comparire le scroll bar ai lati e nella 5.1 anche uno slider per impostare il livello di zoom non pensate che sia comodo perché troppo sensibile e un minimo spostamento produce effetti molto grandi difficilmente controllabili meglio usare il più e il meno del tastierino numerico oppure il menu a tendina che riporta vari livelli di zoom preimpostati si ricorda questo menu anche se vogliamo ritornare alla visualizzazione standard scegliendo la voce auto gli stessi ingrandimenti preimpostati si possono raggiungere anche facendo clic destro sullo schermo per aprire una finestra pop up con la scorciatoia f si ottiene il full screen al lato del menu auto c'è una spia che se rossa indica in corso una qualche elaborazione ritornando al tasto lente di ingrandimento o visualizza zoom se attivato si ottiene uno zoom in avanti con un semplice clic e uno zoom indietro con control più clic oppure si può usare la rotellina sotto la lente c'è il bottone edita maschera lo vedremo nel prossimo video però faccio notare che su aprire una finestra di opzioni detta finestra tool cliccando sul bottone mostra informazioni su tool lo stesso vale per le successive funzioni lo strumento righello è una novità della 5.1 non so bene a cosa possa servire disegnare una linea retta nel video forse come riferimento oppure aprendo anche la finestra tool si possono fare precise misurazioni in stile cad con il tasto control otteniamo righe bloccate a 45 gradi scendendo ancora lungo la barra verticale delle funzioni si trovano i fondamentali pulsanti telecamera in inglese semplicemente camera e proiettore li vedremo fra poco lo strumento taglia livello o uscita mi rifiuto di pronunciarlo di nuovo e lo chiamerò con il termine inglese crop il tasto prendi colore o eye dropper o color picker è simile a quello di gimp e altri programmi simili infine c'è l'ultimo tasto mostra regioni sicure che visualizza delle cornici all'interno del video anche questi tre tasti li vedremo nel prossimo video fedele al manuale apriamo una parentesi teorica sul compositing e su come è implementato in senelerra wikipedia definisce compositing la combinazione di elementi visivi provenienti da fonti separate in singole immagini spesso per creare l'illusione che tutti questi elementi sono parti della stessa scena molte delle funzionalità di sinelerra sono indirizzate al compositing per esempio sono tali la rimozione delle bande nere da un file widescreen cambiare la risoluzione dell'output fare uno split screen o aggiungere dissolvenze in entrata in uscita e così via quando capita una di queste operazioni sinelerra la riconosce autonomamente e avvia il motore di calcolo del compositor negli altri casi usa invece di default il motore di decodifica interno che è più veloce probabilmente la 5.1 usa ffmpeg invece della decodifica interna ma non ne sono sicuro dopo aver importato i file sulla timeline possiamo fare operazioni di compositing direttamente su queste oppure nella finestra compositore soprattutto con le funzioni camera e proiettore il workflow implementato in sinelerra per compositing si basa sul concetto di temporary c'è un frame del video in memoria temporanea dove vengono applicati processi grafici desiderati la camera ci permette di scegliere visivamente il temporary da utilizzare cioè l'input poi lo processiamo e infine lo mandiamo all'output dove lo visualizziamo nel proiettore se ci soddisfa possiamo iniziare il rendering finale facendo un paragone analogico è come se si sbobbinasse un film in pellicola su di un piano e si scansonassero ad uno ad uno i fotogrammi che diventano i nostri temporary poi su queste si applica il nostro editing per esempio si applica la correzione colore e infine ricreiamo una nuova pellicola analogica da proiettare al cinema ovviamente in sinelerra tutte le fasi sono digitali il concetto importante è che la camera ci consente di scegliere e visualizzare il temporary se sulla timeline ci sono più tracce e in genere così ognuna ci fornisce un temporary non importa che sia visibile o meno sullo schermo magari coperta da un altro ma comunque c'è infatti noi vediamo solo la traccia superiore cioè la più in alto nella pila mentre le altre risultano coperte ma non è finita qui la traccia superiore non è semplicemente visibile ma è anche la traccia attiva cioè quella su cui si può intervenire le altre sono con priorità minore e non vengano toccate finché c'è una traccia attiva sopra se vogliamo lavorare sulle tracce inferiori dobbiamo disarmare le tracce superiori con il relativo pulsante arm track della patch bay non solo bisogna anche disabilitare play track per poter vedere la traccia sottostante quindi di volta in volta e a seconda dei bisogni armiamo e rendiamo visualizzabile la traccia che ci serve e disarmiamo tutte le altre o almeno quelle superiori sappiamo già come farlo in maniera veloce usando lo shift click sull'interruttore che vogliamo attivare spero di essere stato chiaro perché è facile fare confusione specialmente con le mie spiegazioni avere più temporari serve per esempio ad ottenere un output in split screen altro concetto importante è che un temporari non deve essere necessariamente grande come l'intero fotogramma può anche esserne un crop oppure l'intero frame ma scalato ad altra risoluzione in questi casi parliamo di weave port ma lo vedremo meglio dopo è abituale lavorare sui temporari rimpiccioliti o tagliati perché così si può arrivare a split screen o a zoomate o a panoramiche le tracce sulla timeline sono chiamate sorgenti perché da questi otteniamo i temporari purtroppo è fonte di confusione perché io è colpa mia io avevo deciso di chiamare i sorgenti solo i media nella finestra risorse o nella finestra wewar ma tant'è il manuale usa questa parola e così farò anch'io prima di cominciare a lavorarci sopra la schermata della camera è uguale alla schermata del proiettore per questo per distinguerle ci sono delle box verdi nel primo caso e delle box rosse nel secondo quando siamo in modalità proiettore e cioè con le guide rosse si possono trascinare in giro in una nuova posizione così il video che in questo caso è ancorato alla box viene trascinato anch'esso trascinando con shift premuto invece si ottiene un ridimensionamento delle guide e di conseguenza del video capito bene il video è ancorata al riquadro rosso e spostando uno si sposta all'altro avendo a disposizione più tracce si può ridurre la prima per esempio e spostarla in alto a destra poi la si disarma e si attiva la traccia successiva così si ridimensiona e si sposta anche questa e così via per tutte le altre tracce alla fine otterremo un video multischermo con una facilità e velocità impossibile ai programmi di editing concorrenti la schermata camera mostra delle guide verdi in questa modalità di editing il box verde indica la posizione della camera in quel dato istante state attenti ora anche se lo sembra la posizione della camera non è in relazione al sorgente video è in relazione solo al punto di vista mentre scorre il tempo all'inizio per esempio si trova centrata nel frame dopo 8 secondi si trova nella parte bassa dopo alto tempo si trova fuori da confini del video e così via quando si usa la modalità camera sembra di muovere il box verde in realtà si muove il video sotto infatti a differenza del proiettore le guide verdi non sono ancorate al video e avranno movimenti indipendenti per capire possiamo pensare di guardare attraverso il buco della serratura di una porta che quindi è fisso e inamovibile e possiamo vedere solo dritto davanti a noi se c'è una bella ragazza che si spoglia proprio davanti bene la possiamo vedere altrimenti dobbiamo aspettare che si muova e ci passi davanti insieme nell'erra però abbiamo la possibilità non di muovere la porta che è inamovibile come abbiamo detto bensì di muovere la ragazza per posizionarla nel punto voluto comodo vero? la controprova di quanto detto si ha notando che se spostiamo la guida a destra il video sotto si sposta a sinistra è questo il vero movimento invece il box verde rimane ancorato alla finestra del compositor lo stesso succede se ingrandiamo rimpiccioliamo il box cioè facciamo lo zoom in realtà è come se avvicinassimo o allontanassimo il piano del video rispetto alla nostra camera che invece è fissa con così tante parole che ho impiegato per spiegarmi è probabile che abbia messo più confusione che altro quindi andiamo avanti chiamiamo viewport la finestra circoscritta dal box verde che rappresenta un temporary le dimensioni del viewport sono indipendenti entro certi limiti dalle dimensioni del fotogramma del sorgente che per esempio poniamo uguale al full hd cioè 1920x1080 pixel e di certo appena attiviamo la finestra della telecamera è così ma non è detto debba rimanere uguale usare una viewport impostata a 640x400 pixel sulla source full hd significa che scansionerà e catturerà solo una parte del frame anche se sembra strano la viewport può essere anche più grande del fotogramma originale in questo caso compariranno delle bande vuote intorno allo spazio non occupato dal frame del sorgente ma anche se vuote sono comunque zone esistenti che si ritroveranno nell'output finale come abbiamo già accennato più tracce video portano a più temporali e quindi a più viewport una volta abbiamo definito la viewport ci manca di posizionare la camera sopra la zona del frame che ci interessa dico così ma ricordate che in realtà la camera è fissa e spostiamo solo il fotogramma sotto di essa il risultato comunque è la simulazione di un movimento di macchina nel tempo che sia zoom o panoramica sia nella camera che nel proiettore se facciamo troppi movimenti che non ci soddisfano e vogliamo tornare al punto di partenza con il click destro si apre una finestra pop up dove scegliere reset camera oppure reset projector come già sappiamo quando abbiamo attivato il tasto camera o proiettore possiamo attivare anche il tasto punto interrogativo per aprire la finestra tool siccome è uguale sia per camera che per proiettore la descriviamo una volta sola possiamo impostare la posizione del box con molta precisione specificando le coordinate numeriche x trasla sul piano orizzontale y sul piano verticale e z avvicina o allontana cioè rappresenta lo zoom si possono usare anche sei interruttori che spostano le guide in nove posizioni predefinite in alto basso a destra sinistra e centrato orizzontalmente verticalmente per esempio cliccando su alto e su destra si sposta il box proprio in quella posizione una bella possibilità è che si possono mettere le curve sulla traccia che rappresentano gli x y e z della camera o del proiettore per farle comparire basta spuntare le voci nella finestra mostra sovrapposizioni che io ho l'abitudine di tenere sempre aperta inoltre sempre nella finestra tool si può decidere se rappresentare tali curve smussate come le curve di bezier oppure angolari ci fermiamo qui lasciando al prossimo video la conclusione dell'esame della finestra compositore ecco 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 ecco